Grazie a Sergio Gasparin, l'amministratore delegato del Catania che lascia il club etneo, il presidente rossazzurro Nino Pulvirenti che spiega che bisogna pensare al futuro. Pablo Cosentino assumerà la carica di vicepresidente rinunciando alla tessera di agente FIFA. Nei prossimi giorni il nuovo addietneo, escluso un incarico a Stefano Rantuccio, non sarà Angelo Vitaliti a ricoprire quel ruolo. Anche il DS Salerno andrà via. In tema di mercato Pulvirenti conferma le offerte per Gomez e mette in dubbio la cessione di Lodi. Un errore, ammette il presidente del Catania, non trattenere Marchese che andrà al Genua. Il presidente rossazzurro smentisce poi la partenza di Almiron. Con lui, come con Anujar, si è già parlato di rinnovo. Tramonta l'interesse per Scocco, ancora segreto il nome del centrocampista argentino atteso. Intanto il team rossazzurro, dopo un anno dal record, va in vacanza.